ciao a tutti benvenuti bentornati sul canale oggi vado ad aprire ovetti edizione pasqua e non perché questi sono quelli con i puffi che non li ho ancora aperti sul canale voi vedete una confezione qua in realtà ne ho prese due e col trucchetto che so ho messo dentro due ovetti con i puffi e con sorpresa puffi insomma e poi ho trovato questi super carini secondo me super pasquali e primaverili uno è un polcino e uno è un ranocchio quasi mi dispiace aprirli perché sono veramente carini e come si sente dentro hanno la sorpresa quindi sono molto curiosa di vedere che cosa si trova in realtà ho parecchi video da fare di pasqua quindi unboxing di uova spero di farli presto perché come sapete non sono stata molto bene e quindi non ho registrato tanto quindi sto un po recuperando adesso che sto un pochino meglio però bando alle ciance andiamo ad aprire questi ovetti allora questo è il primo vetto che vado ad aprire vado a mettere la cioccolata poi tutta in questa ciotola questo è quello dei puffi non si rompe ok quindi primo dei puffi io non ho mai visto unboxing di questo tipo quindi non so neanche che puffi ci siano a parte quelli segnati sulla confezione poi secondo vetto dei puffi ok andiamo a vedere che chi abbiamo trovato proprio a questo vediamo un po magari c'è anche la checklist o che carino mi sa che puffo pompiere perché sì mi sembra di sì allora intanto vediamo se c'è una checklist allora sì c'è il puffo speciale che è quello d'oro poi c'è puffetta in due versioni ovvero puffetta facciamo così così li vedete anche voi puffetta con che cosa una cazzuola tipo in mano e puffetta dottoressa poi c'è pompiere dottore grande puffo cos'è capostazione tipo pilota in una roba del genere questo qui che dovrebbe essere quello appunto che ho trovato io il pompiere e questo sullo skateboard questa è la checklist allora io ho trovato puffo pompiere che vediamo un po come si monta ok l'ho montato che carino allora non è stabile fisso ma fa proprio questo movimento ovvero gira intorno in questo caso al tubo dell'acqua vi lascio come sempre poi una foto una clip in hd perché come sempre qua si vede poco essendo piccolo comunque è molto carino ben fatto e questo era il primo puffino che ho trovato vediamo il secondo ovviamente mi piacerebbe trovare puffetta oppure quello dorato perché sarei curiosa di vedere com'è vediamo ecco appunto no non è forse uguale però è molto simile e quello questo qui che non so bene cos'è ah no è quello dello skateboard ok è quello dello skateboard no mi sembrava l'altro che correva invece è quello sullo skateboard quindi puffo skateboard andiamo a montarlo così si fissa sullo skateboard si si fissa meno male ok e voilà carino molto carino non è male ha il caschetto e lui muove anche la testa carini preferisco l'altro però forse quello pompiere più simpatico però anche lui è carino quindi nelle uova dei puffi ho trovato queste due sorpresine qua andiamo a vedere che cosa c'è in queste allora parto dal pulcino lo vado ad aprire allora dentro non ha la faccia del pulcino come immaginavo è fatto così normale qua c'è scritto kinder ed un po' un po' lavorato come si vede qua andiamo ad aprire ok vediamo cosa c'è perché sono proprio curiosa non so cosa si potrebbe trovare che cos'è non si capisce sembra un cos'è uno scoiattolo si sembra uno scoiattolo fammi vedere vediamo la c'è cristo ma che carini wow sono tutti animaletti e sono carinissimi questo si è lo scoiattolo con le uova no vabbè ma che carini peccato che abbia trovato uno che non mi piace vabbè allora in pratica sono tutti animaletti con le uova c'è la lumaca che invece del guscio ha un uovo lo scoiattolo non questo proprio il classico scoiattolo rosso che ha in mano un uovo la paperella con le uova nella cestino la pecorella nera che ha le uova tipo nella lana il riccio il coniglio la donnola questo sembra un gufetto e una rana allora vi dico che io impazzirei se troverei i cioè se trovassi scusate troverei se trovassi il coniglio perché sapete che li adoro però mi piacerebbe anche il gufetto perché secondo me è molto carino e anche il riccio sì sono molto molto carini quindi coniglio riccio e ufetto che questo qua si vede niente perdonatemi lo monto un attimo non dovrebbe essere troppo complicato ok era complicato come si suol dire perché non capivo da che parte mettere comunque eccolo qua allora in realtà forse guardandolo bene non è uno scoiattolo perché ha la coda come vedete striata quindi direi che è un procione lo scoiattolo un altro quindi ho trovato il procione che è a sotto le rotelline infatti se vedete va avanti questo ve lo faccio vedere meglio dopo vado ad aprire il ranocchio e vediamo che cosa abbiamo trovato ok vediamo un po che cosa abbiamo trovato è tutto sporco di cioccolato al latte bene mi sembra mi sembra mi sembra il coniglio mi sembra il coniglio sì il coniglio ragazzi vedo delle orecchie da coniglio wow sì sono contentissima io adoro i conigli ed era quello che volevo di più anche questo vado a montarlo e ve lo faccio vedere eccolo qui questo era un po più facile da montare anche se aveva tre pezzi invece che due come l'altro aveva tre pezzi però come ingranaggio era diciamo a due invece questo era tre carino vorrei metterlo un po meglio però è molto carino è un coniglietto bianco con il cestino con le uova gialle invece questo è il procione con le uova arancioni ora passo alla ripresa dove si vede un pochettino tutto meglio partiamo dai puffi questa è la checklist io ho trovato lui e lui ve li faccio vedere allora lui è il puffo diciamo che va sul palo quindi puffo pompiere e lui è il puffo che va sullo skateboard poi invece nella checklist pasquale quindi quella di pasqua queste sono le sorprese e come vi ho detto mi piaceva un sacco il coniglio che abbiamo trovato il gufetto questo qui secondo me è tenerissimo ma un po' tutti sono carini anche la ranocchia anche a questo non è una rana è un coccodrillo che cute il riccio è bellissimo anche la farfalla è carina non l'avevo notata prima bellissima e ecco qua che arriva il procione fatto molto carinamente e troppo carino bello e poi arriva anche il coniglio carinissimi mi metto anche la ripresa lontana ok puffo pompiere ho dovuto appoggiarlo se non cadeva e queste sono le nostre sorprese aspettate che sono un po instabile scusate eccole qua davvero molto carine fatemi sapere in un commento qual è la vostra preferita io vi ringrazio di aver seguito questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao a presto